Buoni fruttiferi postali o BTP valore? Forse ti starei chiedendo in quale di questi due strumenti finanziari bisogna investire. Io sono Giosi Di Girolamo, trainer di Autonomia Finanziaria e il mio obiettivo è renderti semplici concetti complessi di finanza personale. In questo video ti farò anche degli esempi pratici di rendimento per quanto riguarda i buoni fruttiferi postali e il BTP valore. E poi ti farò vedere le differenze, che cosa invece è uguale, in modo da essere certo di scegliere lo strumento migliore per te. Qui siamo sul sito di Poste Italiane per andare a vedere nel dettaglio tutto sui buoni fruttiferi postali e quindi fare poi un confronto con il BTP valore che si presumo venga ripetuto anche nelle prossime emissioni. Quindi puoi scaricare il file del BTP valore dal link in descrizione al video, inserendo nome ed email. Quindi andiamo nel dettaglio. I buoni sono lo strumento adatto per far fruttare i propri risparmi con una maturazione degli interessi. Possono essere acquistati in forma cartacea o dematerializzata. Quindi in teoria l'obiettivo dei buoni è quello di avere un rendimento. Però andiamo a vedere a breve se effettivamente è così. Andiamo nel dettaglio perché è importante vedere le condizioni economiche di ogni buono. Perché quando si va a vedere la prima parte, ora quello che vedi qua, non ti dà contezza, non ti dice nella realtà il valore esatto di quello che puoi guadagnare. E ora capirai perché ti ho detto questo. Qui abbiamo il buono 4 anni plus per far fruttare i tuoi risparmi fino ai 4 anni. Qui ci arrivavamo. Rendimento annuo lordo a scadenza del 2%. Attenzione, lordo a scadenza. Quindi per tutti e 4 anni avrà il 2%. Andiamolo a scoprire. Cliccando scopri di più. Ok, allora qui poi andiamo, vediamo se troviamo le fantastiche condizioni. Qua dice alla fine del quarto anno 2%. Ma andiamo a guardare il foglio informativo. Il foglio informativo o la scheda di sintesi. Vediamo se già la scheda di sintesi ci dice qualcosa. Oppure andiamo nel foglio informativo. Vediamo questa, la tabella riepologativa. Vediamo se ci fa subito capire quali sono i rendimenti. Lordo a scadenza, 2%. Evidentemente prima era del 3% negli anni passati. No, però volevo trovare. Vediamo il foglio informativo. Andiamo su. In tempo reale vediamo insieme il foglio informativo. Ok, per andare a vedere quello che dovreste fare voi. Ok, quello che sto facendo io ve lo faccio vedere. Perché è quello che dovreste fare voi prima di investire in generale. Tabella riepologativa. Vediamo se questo ci dice qualche informazione in più. No, era quello di prima. Andiamo indietro. Vediamo. Sì, lo so, è un po' complicato andare a trovare le informazioni che ci servono. Foglio informativo e tassi. Vai allo store. Scheda di sintesi. L'avamo cliccata. Cadenze. Valore di rimborso. Troveremo mai queste informazioni? Ok. Torniamo sul foglio informativo. Vediamo. Perché in teoria vorrei capire effettivamente. Tabella riepologativa dal 5-10. Andiamo in basso. Vediamo. Gli interessi del 12%, tasso effettivo lordo di arrendimento a scadenza 2%. Ok, anche qua dice così. Foglio informativi. Niente, sembra solo questo. Quindi sembrerebbe, ma io mi ricordo di aver visto altro. Sembrerebbe che sia così. Andiamo a vedere se c'è qualche altra cosa che possiamo cliccare. che ci può dire qualcosa in più. Il valore di rimborso è pari al valore nominale sottoscritto al netto di eventuali oneri fiscali. Quindi che cosa vuol dire? Che comunque ovviamente pagherai le tasse. Non sono corrisposti interessi prima della scadenza. Quindi prima dei 4 anni non potrai mai ricevere un rendimento. Il valore del rimborso è pari al valore nominale sottoscritto al netto di eventuali oneri, incrementato dagli interessi maturati, come esemplificato nel foglio informativo. Però il foglio informativo non mi sembrava che mi dicesse. Vediamo qua se ci dice qualcosa in più. Vediamo qua cosa ci dice. Cosa è il buono fruttifero? Prezzo, intestazione durata, cadenza, importi sottoscrivibili. I buoni 4 anni plus sono sottoscrivibili per importi da 50 euro in poi, ok, multipli, interessi. I buoni 4 anni plus riconoscono interessi a tasso fisso alla scadenza del quarto anno dalla data di sottoscrizione. Non sono corrisposti interessi per i buoni 4 anni plus rimborsati prima della scadenza del quarto anno. Quindi se tu prelevi i tuoi soldi prima del quarto anno avrai sicuramente perso una parte dei tuoi soldi. Sai perché? Perché su quei soldi comunque paghi le tasse e quindi pagando le tasse di conseguenza verosimilmente si saranno ridotti e non avrai ricevuto alcun rendimento. Gli interessi sono calcolati su base annuale in regime di capitalizzazione composta. Gli interessi sono corrisposti al momento del rimborso del buono. I buoni 4 anni plus diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del quarto anno. Cioè dal quarto anno in un giorno non avrai più alcun rendimento, ok? Quindi dovrai fare qualcos'altro, investerli in altro modo se vorrai avere rendimento. Nella successiva sezione denominata condizioni economiche sono riportati i coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto, i tassi effettivi di arrendimento riconosciuti al compimento di ogni anno. E' questo che voglio andare a trovare, che adesso non provo più ma l'avevo visto da qualche parte, a decorre dalla data di sottoscrizione confronto a tabella A. Però ovviamente io non trovo nulla, perché non trovo più nulla? Tabella A, perché io mi ricordo di aver visto. Ecco la fantastica tabella A. Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun anno. Ok, quindi il 2%, quindi 0%, 0%, 0%, sempre lo 0%, al quarto anno il 2%, il netto quindi tolta la tassazione è 1,76%. Poi a breve faremo delle simulazioni online per vedere effettivamente a quanto ammonta. Comunque parliamo di un netto tolta, la tassazione non tolta, io presumo che non tolgano il bollo qui, ma tolgono solamente la tassazione del 12,5%. Andiamo a vedere, il punto 2 cosa dice, il tasso effettivo anno di arrendimento, l'ordo è netto alla fine di ciascun anno di possesso, calcolato secondo la conversione, arrotondato alla seconda cifra. È data dalla formula, ok. Non mi è chiaro, ragazzi, vediamo se è chiaro, scrivetemelo nei commenti. Se questo 2% viene dato per ogni anno, ma forse lo capiremo a breve con la simulazione, perché sto facendo un test reale per vedere quanto è chiaro questo sito, allora il 2% se è dato solamente il quarto anno su quarto anno o anche sugli altri anni, ma lo scopriremo, presumo appena andremo a fare la simulazione. Andiamo sugli altri buoni. Ok, andiamo agli altri rendimenti, vediamo se ci dice qualcosa in più, alla fine del quarto anno, alla fine del quarto anno, quindi è solo il quarto anno che si riceve il 2%, sembra di sì, quindi per gli altri tre anni non ricevi niente. il quarto anno riceve il 2%, forse è così, leggendo qui, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Andiamo a vedere gli altri buoni e poi effettivamente vedremo con la simulazione, capiremo effettivamente se è così. Buono rinnova 4 anni a rendimento, anno lordo a scadenza, anno lordo, anno lordo a scadenza, 2,5%, andiamo a vedere. Puoi reinvestire i tuoi risparmi fino a 4 anni, puoi contare su tassi di rendimento fissi e certi, puoi sottoscriverlo se hai uno o più buoni fruttiferi scaduti. Quindi questo buono rinnova 4 anni solo quando ti scade un buono fruttifero, puoi sottoscriverlo, altrimenti nulla. Ok, alla fine del quarto anno 2,5%, ma prima vediamo se qua voglio informativi e tassi, vediamo se riusciamo a capire qualcosa in più. La sottoscrizione del buono rinnovo 4 anni è consentita a coloro che risultano in possesso dei requisiti soggettivi, ok? Praticamente chi aveva già un buono che è scaduto. Ok, non mi dice niente. In caso di rimborso prima della scadenza del quarto anno non viene corrisposto soltanto il capitale investito, quindi al solito non ha i rendimenti se li prelevi prima del quattro anno. I buoni si prescrivono trascorsi 10 anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale interessi. Specificano questa frase perché ci sono stati anche dei ricorsi in passato, perché nella pratica le persone avevano lasciato lì quei soldi ed erano passati 10 anni e praticamente non gli davano più i soldi indietro perché andavano in prescrizione, ma evidentemente non era chiaro dalla documentazione questo e quindi so che le persone l'hanno fatto ricorso se c'è questa frase qui. Poi non mi ricordo come è andata a finire. Allora, vediamo se c'è qualcos'altro in merito. In merito al rendimento. Ok, andiamo nella tabellaria prerogativa. Ok, niente, ci dice solo questo. Va bene, lo prendiamo per buono. Effettivo, lordo di rendimento a scadenza. Ma secondo me si prende solo quello, cioè su un anno viene calcolato. Sembra così, eh? Non se li ricevi il quarto anno, ogni anno ti calcolano il 2,5 l'ordo o il 2% per quanto riguardava il buono precedente. Comunque lo scopriremo a breve. Allora, rendimento anno, lordo a scadenza, buono 3x2. Puoi far fruttare i tuoi risparmi fino a 6 anni e gli interessi sono riconosciuti dopo il terzo e il sesto anno, perché nella pratica se prelevi prima dei 3 anni i tuoi soldi, al solito non ricevi, cioè ricevi i tuoi soldi indietro, a meno che tolta la tassazione, però non ricevi alcun rendimento, quindi almeno devi aspettare i primi 3 anni per ricevere il rendimento dei primi 3 anni e i 6 anni per ricevere il rendimento dei primi 3 anni e 6 anni. Quindi se li prelevi al quarto anno, riceverà i rendimenti solo per i primi 3 anni, ma andiamo a vedere nel dettaglio meglio. Ok, andiamo a vedere questi rendimenti. Ecco, rendimento effettivo anno lordo. Alla fine del terzo anno 1,25%, alla fine del sesto anno 2,25%, quindi per i primi 3 anni non è il 2,25%, ma solamente l'1,25%. Voglio informativi e tassi, vediamo che ci dicono qualcosa in più. Per ulteriori informazioni, no, ho preso uno che ci dica quello che abbiamo visto. Ah, eccola qui! Ok, al terzo anno, al sesto anno. Al sesto anno. Ah, questo, ok. Quindi non dovete guardare gli altri dati, ma solamente questi, perché quelli erano i dati dei precedenti buoni del passato. Andiamo a vedere gli altri buoni, poi con la simulazione sarà tutto più chiaro. E sì, lo so, si perde tempo a guardare queste cose, ragazzi, però non possiamo, non si può investire senza capire effettivamente se è quello che ci conviene, quindi dovete perdere tempo. Mi dispiace, bisogna perdere tempo. Poi, buono risparmio sostenibile. Puoi far fruttare i tuoi risparmi fino a sette anni. Rendimento fisso, tasso effettivo, anno, lordo, a scadenza del 2%. Ok, quindi questo fino a sette anni, vale? Vediamo i rendimenti che ci dice qualcosa in più. Ok, ci fa capire di più che cosa significa 2% anno, lordo, a scadenza. Che vuol dire che il settimo anno hai il 2%. Mi sono spostata io, non dovevo spostarmi. Quindi, volevo evidenziare qua, ma mi prende la faccia. Vabbè, vediamo se faccia così. No, non me lo evidenzia. Comunque, al compimento del settimano hai il 2%, ma gli altri anni hai ancora più irrisorio rendimento rispetto al 2% del settimano. Il compimento del primo anno, rullo di tamburi, 0,5%. Lordo, lordo, guardate, lordo. Ok, quindi dobbiamo togliere pure la trastazione. Il compimento del secondo anno, attenzione, non 0,5% ma 0,6%. Siamo quasi diventati orecchie. Il compimento del terzo anno, lo 0,75%. Il compimento del quarto anno, attenzione, attenzione, rullo di tamburi, arriviamo all'1%, all'1%, straordinario ragazzi. Il compimento del quinto anno, ancora di più, 1,1%. Il compimento del sesto anno, 1,25%. E poi arriviamo al fantastico 2%, lordo, attenzione. Quindi, questo è... Niente, non mi vado a leggere niente perché poi le altre cose non mi dicono chissà che cose in più al momento. Poi ovviamente voi leggeteli prima di sottoscrivere, però questo è... Quindi, ti fanno... ti evidenziano 2%, ma se vai a guardare nel dettaglio, il 2% è solo il settimo anno. Prima non c'è niente di lontanamente vicino al 2%. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi rendimenti nei commenti. Allora, buono a fantastico, fantastico, fantastico. Questo mi mancava, deve essere nuovo, perché non ce l'avevo nei precedenti video. Buono indicizzato all'inflazione italiana. Se vuoi investire fino a 10 anni, riconosce un rendimento anno lordo fisso crescente che insieme al capitale investito è eventualmente rivalutato sulla base dell'evoluzione dell'inflazione italiana. Rendimento fisso anno lordo a scadenza dello 0,6%. Ma vediamo nel dettaglio. Attenzione, attenzione, andiamo a vedere quanto lo rendiamo. Rendimento del buono. Oh, oh, tasso effettivo fisso anno lordo di arrendimento. Da intendersi come tasso di interesse effettivo anno al compimento di ciascun anno. Indicato nella data del non rivalutato sulla base dell'evoluzione dell'inflazione italiana e all'orgo degli oneri fiscali. Io non capisco, ragazzi. Giuro, io non capisco. Perché qui dice che è un buono indicizzato all'inflazione italiana. Ok. Poi il rendimento fisso alla fine sembra che è 0,6. Non ce la posso fare, ragazzi. Comunque, guardando questi testi, guardando questa fantastica tabella che dice poco perché speravo ci fosse qualcosa in più che mi piacesse capire che veniva indicizzato all'inflazione, ma io vedo solo questi dati. Vabbè, primo anno 0% comunque sia, secondo anno, attenzione, attenzione, 0,25%, terzo anno 0,28%, quarto anno, attenzione, 0,30%, poi 0,33%, ma mettete sempre 0,20%, anche inferiore, ma che senso aumentare dello 0,03% ogni anno o qualcosa del genere? Al sesto anno arriviamo allo 0,36%, il settimo anno allo 0,41%, l'ottavo anno allo 0,47%, il nono anno, attenzione, allo 0,53% e il decimo anno allo 0,60%. Ok. Vediamo il foglio informativo. Cosa ci dice? Ok, tabella ripologativa, dal 24 gennaio 2018, dal 7 marzo, ok, sono questi, tassi nominali, hanno i lordi, ok, quindi sono questi, quelli che avevamo letto prima. presi, perché non me li posso ricordare, a memoria 0,25, 27, 28. Gli interessi sono soggetti ad una ritenuta fiscale del 12,5%, quindi tutto quello che vedete è lordo, anche l'1,25% è lordo, vengono calcolati sulla base bimestrale, in regime di capitalizzazione semplice, normalmente capitalizzati in regime composto, sì, ma parliamo del nulla, ragazzi, del nulla. I tassi nominali hanno i lordi, così come il capitale investito, vengono rivalutati del 100% dell'incremento dell'inflazione italiana. non sono corrisposti, attenzione, interessi e non è riconosciuta la rivalutazione del capitale in caso di rimborso nei primi 18 mesi dalla sottoscrizione, quindi se riprendete il capitale prima dei 18 mesi non avete nulla. Comunque, anche se questi tassi, mettiamo caso, vengono rivalutati, come dicono qua al 100% dell'incremento dell'inflazione italiana, parliamo di tassi talmente bassi, 0,25, 25, 35, quello che è, perché mi sembra che erano diversi da quelli che ho letto là, secondo me, perché qua dice dal 7 marzo 2024, secondo me, questi sono diversi da quelli che vi ho letto prima, perché non li hanno modificati nel sito, secondo me, ora li andiamo a riguardare, perché vedo uno 0,25, 0,25, 0,35, andiamo a guardare là, nel sito web, secondo me non li hanno modificati, ragazzi, in diretta, vediamo se abbiamo fatto questa grande rivelazione. Dico in diretta perché sto vedendo, anche se vi metterò il video registrato, sto vedendo, tra virgolette, in diretta, ho registrato questo processo per farvi capire il tempo che ci vuole fare, per avere informazioni dettagliate, non guardare solo quello. Infatti, se andiamo a vedere, condizioni in vigore dal 7 marzo 2024 sono diversi da quelli che vedevamo di là, qua c'era uno 0,25, mi ricordo che poi c'era uno 0,35, che qua non vedo, quindi non so, in teoria fa fede, non quello che mettono qua, ma il foglio informativo, quindi tra i due dovreste guardare quelli, e poi vengono sì aggiornate all'inflazione, ma sono talmente bassi, lo 0,6, anche se lo aumenti all'inflazione, parliamo dell'1%, del niente comunque, ok ragazzi? Ok, andiamo a vedere gli altri buoni fruttiferi. Andiamo a vedere gli altri buoni fruttiferi. Eravamo arrivati a quello indicizzato all'inflazione, poi vi è il buono, 3 per 4, puoi far fruttare il tuo risparmio fino a 12 anni e gli interessi sono riconosciuti dopo 3, 6, 9 anni, 12 anni, ovviamente se prendi i tuoi soldi al secondo anno non vedrai riconosciuto niente, quello non è chiaro. Se prelevi i tuoi soldi il quinto anno, per esempio tra il sesto anno, ricevi solo i rendimenti che hai avuto fino al terzo anno, se li ricevi il settimo anno, se li riprendi i soldi il settimo anno, ricevi solo il rendimento fino al sesto anno. Rendimento, anno lordo, a scadenza del 2,5%, ma andiamo sempre a guardare nel dettaglio, vediamo se per ogni anno è così. vediamo se qua c'è qualcosa, andiamo intanto nel fantastico rendimento. Quando dicono nel sito delle poste, questo mi è chiaro ragazzi, nel sito delle poste, anno lordo a scadenza 2,5, 2 e riguarda solo l'ultimo anno, tutto il resto lo dovete andare a verificare ogni volta perché poi magari li cambiano domani, cioè io non è che ho accordi con loro, non so quando li cambiano, quindi dovrete sempre andarli a riguardare, anche se guardate questo video, perché magari li modificano di nuovo. Quindi alla fine del terzo anno abbiamo il rendimento effettivo anno lordo dell'attenzione 1,25, alla fine del sesto anno 1,75%, alla fine del nono anno 2%, alla fine del dodicesimo anno 2,5%, quindi ragazzi poco, direi che poco, sarete d'accordo con me? Tutto ciò lordo, attenzione, dobbiamo sempre togliere la tassazione. Poi andiamo a vedere che cosa ci rimane, vado a guardare, altri fantastici buoni, bla bla bla, il buono ordinario, attenzione, abbiamo uno 2,75%, ma abbiamo visto, abbiamo capito che però se andiamo a guardare questo fino a 20 anni, se andiamo a guardare tutti i 20 anni, siamo sicuri, sarai sicuro anche tu ormai, che il 2,75%, io l'unica certezza che ho è che sarà il ventesimo anno, vediamo se ci ho beccato ragazzi, perché sto vedendo, eh sì, no, sì, no, ah sì, ecco infatti, mi sta venendo un colpo, non vedevo 2,75% perché vedevo il decimo anno e dicevo no, 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 non potete fare fare questa figura, e invece non me l'hanno fatto fare perché era come pensavo, solo il ventesimo anno abbiamo il 2,75%, ma attenzione, attenzione, alla fine del primo anno abbiamo un fantastico 0,5%, il secondo anno un altro fantastico 0,5%, li devo leggere tutti ragazzi perché parliamo del poco, poco, tutto lordo ovviamente, quindi anche se la tassazione del 12,5% agevolata rispetto alle azioni, parliamo del nulla, ok, comunque si trova di meglio, anche se per esempio andiamo a vedere, vi metto il link in descrizione al video, il conto di risparmio di Freedom24, lì abbiamo rendimenti, anche se la tassazione è del 26% e non è agevolata del 12,25%, abbiamo rendimenti giornalieri, puoi avere rendimenti giornalieri o puoi decidere per delle scadenze 3, 6, 12 mesi e parliamo di rendimenti anche del 4 e del 5% lordo, ok? ok, abbiamo visto questo fantastico buon ordinario per 20 anni, lasciamo i nostri soldi, no, ditemi che non l'avete fatto, per favore, allora, forse è meglio il materasso, guarda, allora, fantastico, qua vedo un 6%, ma andiamo nel dettaglio ragazzi, perché il 6% secondo me, secondo me è solo l'ultimo anno, può essere acquistato fino a 16 anni e mezzo del minore e gli interessi maturano fino alla maggiore età, ok, andiamo a vedere questo 6%, attenzione, lo scopriamo insieme, ok, andiamo sulla scheda rendimenti, yeah, ok, e al sesto anno, attenzione, anche l'anno prima abbiamo il 6%, ok, però andiamo a guardare gli altri, quindi il primo anno 2,5, secondo anno 2,5, terzo anno 2,5, quarto anno 2,5, quinto anno 2,5, sesto anno e settimo anno 2,75, dall'ottavo anno all'undicesimo 3%, dal dodicesimo anno al quindicesimo 3,5, 16esimo anno 4,5, finalmente se riesci a lasciare lì i soldi senza farli toccare a tuo figlio fino a 28 anni, gli ultimi solo, gli ultimi due anni, già sei stato bravissimo se non hai toccato quei soldi fino al 18esimo anno, finalmente vedrai questo fantomatico 6% che scrivono al 17esimo al 18esimo anno, ok, poi bisognerebbe andare a guardare la scheda di sintesi, il foglio informativo, che è quello bisogna fare sempre, sempre ragazzi, qualsiasi investimento, ok, anche quelli che vi cito, io bisogna sempre andarli a guardare, poi vediamo cos'altro c'è, se c'era altro, o li abbiamo visti tutti, c'è un buono soluzione futuro, puoi far fruttare i tuoi risparmi con durata variabile, può aumentare l'importo della rata mensile acquistando nuovi buoni soluzioni futuro, puoi richiedere il rimborso in qualsiasi momento, rendita in, ah sì ragazzi l'avevo guardato, parliamo sempre, bisogna poi andare a guardare nel dettaglio, ora ci vuole un video solo per questo, se volete ve lo faccio su buono soluzione futuro, scrivetemi in un commento buono soluzione futuro, ve lo faccio perché così sembra che vi danno una rendita di 108, cioè vi danno magari una rendita di questo, però dobbiamo guardare quanti soldi voi avete dato, rate mensili, quindi 180 rate mensili tra i 65 e gli 80 anni, però anche lì bisogna andare a guardare nel dettaglio, perché quanti soldi voi li avete dato per avere questo indietro? Per capire effettivamente se non li avete dato più soldi voglio rispetto a loro, andiamo così a guardare velocemente, ma io su questo so che ci vuole un video specifico, perché vi è una fase di accumulo, dovremmo andare a leggere nel dettaglio, una fase di rendita, ok dobbiamo capire effettivamente, bisogna andare a vedere effettivamente quanti soldi tu gli hai dato per riavere dopo tra i 65 e gli 80 anni questi soldi, ok? Qua è ancora più complicato andare a capire che cosa si intende, attenzione, mi sento lo Sherlock Holmes dei fogli informativi di poste e degli altri strumenti finanziari, trova l'inghitto, ok? Potrei chiamare così questa serie, ragazzi, ok? Quindi ora andiamo a fare la fantastica simulazione del sito di poste, ma vediamo che cosa succede, simulazione, ok? Simula valore buoni, ok? Allora importo 10.000 euro, seleziona breve medio termine, poi facciamo anche quella medio lungo termine, ragazzi. Simula. Dopo 6 anni, con il buono 3 per 2, avremo fantastico 11.249,72, quindi facciamo così, calcolo veloce, voglio prendere una fantastica calcolatrice, ok? Perché potrei emozionarmi e non dire il valore esatto, perché sono veramente troppo soldi. Allora, qua non è tolto il bollo, valore di rimborso a scadenza, infatti mi ricordo che poi però non è tolto il bollo, c'è solo tolta la tassazione, quindi 11.249,72, vabbè, meno 10.000 ce la possiamo fare, era facile questo, dai. Quindi alla fine dei 6 anni abbiamo più 1249,72 diviso 6 anni, anche se non è proprio così, perché abbiamo visto i primi 3 anni prendi meno dei successivi 3 anni, però in totale è come se hai circa 200 euro l'anno e però devi tenere fermi i tuoi soldi per 6 anni, ok? Anche meno i primi 3 anni, sarà un po' meno i primi 3 anni, perché abbiamo visto che il valore era inferiore e i successivi 3 anni un po' più alto rispetto a questa è una media, ok? Poi il buono fruttifero 4 anni semplice per investimenti a 4 anni con sottoscrizioni periodiche e automatiche, valore di rimborso netto premiale a scadenza esclusivamente al raggiungimento di 24 sottoscrizioni periodiche, quindi devi continuare a mettere soldi. Noi questo l'abbiamo visto questo 4 anni, il risparmio semplice, non ce la posso fare, ce ne sono 25.000 qua, non me lo ricordo questo qui, comunque facciamo caso che l'avevamo visto, ragazzi. Allora, riprendiamo questa fantastica calcolatrice, però ci vogliono sottoscrizioni periodiche automatiche, quindi vuol dire 24 sottoscrizioni periodiche, per 24 mesi presumo devi continuare a versare soldi, altrimenti non ti viene riconosciuto, a scadenza esclusivamente al raggiungimento di 24 sottoscrizioni periodiche, 83 diviso 4, no, diviso 4 meno, 10.000, vabbè quello ce l'abbiamo a fare, ok, diviso 4 anni, circa 300 euro l'anno, però non devi fare queste sottoscrizioni periodiche automatiche per avere questo rendimento, quindi devi continuare a mettere soldi nella pratica. Buono soluzione eredità, dedicata ai beneficiari di un procedimento che io non ho visto prima, ragazzi, forse devono aggiornare qualcosa sul sito, perché non mi sembrava di averlo visto questa soluzione, comunque alla fine degli anni abbiamo sempre 1.194 euro alla fine dei 4 anni, buono 4 anni plus, durata 4 anni con interessi riconosciuti, solo a scadenza, parliamo del nulla, nulla, 721,28 su 10.000 euro investiti dopo 4 anni, attenzione, circa 180 euro e poi abbiamo il fantastico durata di 4 anni, rinnova 4 anni plus, riconosciuto solo chi rinnova i buoni, quindi alla fine dei 4 anni ti vedi 900 euro in più, circa tutti questi importi bisogna togliere il bollo, io sono praticamente certa perché l'avevo visto, ecco il valore, ecco l'avevo visto da qualche parte quando ho guardato il sito di post, a volte mi cambiano dove mi mettono le cose, quindi mi perdo. Il valore di rimborso netto indicato nella simulazione corrisponde alla somma dell'importo inserito e degli interessi previsti al netto della ritenuta fiscale sugli interessi, quindi il 12,5% è già tolto, attenzione però ragazzi, non è considerata l'applicazione dell'imposta di bollo, da calcolare in base alla normativa vigente, quindi dobbiamo ancora togliere 34, almeno, virgola 20 euro, bla bla, ok, questo abbiamo visto tutto, però dobbiamo vedere anche quelli a lunga scadenza, vediamo cosa succede, attenzione, attenzione, facciamo un'altra simulazione, facciamo un'altra simulazione e andiamo a vedere, sempre i nostri scassi di 10.000, medio-lungo termine, simula, ok, abbiamo simulato, qua ci appare il buono 3x4, quindi dopo 12 anni rispetto ai 10.000 investiti abbiamo più 3.000 euro, qua sempre dobbiamo togliere però l'imposta di bollo che non viene tolta in questo valore, quindi dopo 12 anni finalmente vedi se riesci a mantenerli lì, non toccare i tuoi soldi per nulla, eccetera, riesci ad avere circa 3.000 euro, sarà meno di 3.000 euro perché dobbiamo togliere l'imposta di bollo, invece dopo 20 anni con il buono ordinario, dopo 20 anni mi dice 6.000 euro è qualcosa, sempre qui bisogna togliere l'imposta di bollo che qui non è stata tolta, è stata tolta solo la tassazione del 12,5%, andiamo a vedere invece che cosa succede con i buoni del tesoro poliennali, le obbligazioni del tesoro in questo ultimo periodo, cioè da un bel po' ormai, dal giugno, mi sembra da giugno 2023, scrivetemi nei commenti se ho sbagliato, è stata la prima emissione di un BTP valore, inizialmente erano di 4-5 anni, ora nel tempo stanno aumentando gli anni e quindi siamo arrivati ai 6 anni e quello che sappiamo sul BTP valore, quindi questo varrà sempre, secondo me a breve, a prescindere da quando guarderete il video, verrà fatta una nuova emissione del BTP valore, secondo me non si ritornerà alle scadenze di 4-5 anni, ma sarà sempre o di 6 anni o addirittura verrà allungata, perché come abbiamo visto dalla prima emissione di giugno 2023 ad oggi, che siamo nel 2024, nel momento in cui sto registrando il video, si è passati a una scadenza di 6 anni, quindi potrebbe rimanere secondo me uguale o se guardate successivamente o al massimo aumentare, non ridurranno la scadenza, perché che cosa fanno nella pratica? Aumentano la scadenza per lasciare più o meno i tassi, ora non uguali perché sono comunque andati a diminuire, però se fosse rimasto sempre di 4 anni, i tassi sarebbero peggiorati ancora di più, allungato la scadenza i tassi possono un attimino lasciarli, non dico decenti, ma insomma. Allora le cedere per il BTP valore vengono sempre pagate ogni 3 mesi, ok? Quindi questo è rimasto costante, però ogni BTP valore rimarrà costante per i successivi, quindi ogni 3 mesi vedi il tuo rendimento, ok? E poi l'altra cosa che è rimasta è il premio finale extra, negli ultimi BTP valore era dello 0,8% e ora andiamo a guardare nel dettaglio con gli ultimi tassi dell'ultimo BTP valore quale sarebbe stato il rendimento. Prendiamo sempre 10 mila Euro, visto che avevamo considerato 10 mila Euro per fare le nostre simulazioni sui buoni fruttiferi postali, ok? L'ultima volta avevamo per i primi 3 anni l'ultima emissione del BTP valore, in base a quando sto registrando il video, del 3,35%, io presumo che comunque tra 2-3 mesi faranno un'altra emissione del BTP valore e 3,9% per i successivi 3 anni, quindi investendo 10 mila Euro avremmo avuto alla fine dei sei anni scusate, 11 mila, 853,13, quindi un circa 1.800 Euro in più dopo sei anni, quindi circa 308 Euro in questi valori che vedete qui, ossia tolto la tassazione del 12,5%, quindi già sono a netto, non sono lordi e poi anche il bollo dello 0,2%, ok? E qua vi è il premio finale, quindi comunque risorio non è tanto, ok? Parliamo comunque di 70 Euro perché è lo 0,8%, ora in futuro non so quanto sarà, ma 0,9%, 0,7% più o meno è sempre quello, ok? Non è che diventate ricchi per il premio fedeltà se riuscite a mantenerlo fino alla scadenza. Il mio consiglio è comunque se decidete, ammesso che sia la migliore soluzione per voi, il BTP valore è quello di mantenerlo fino alla scadenza, ok? Questo perché se lo riprendete prima, il valore sul mercato potrebbe essere anche inferiore rispetto ai soldi che avete investito. Per essere esecuti e riprendere i vostri soldi investiti, dovete mantenerlo fino alla scadenza, infatti qua vedete un meno 10 mila nel momento in cui iniziate ad investire e un più 10 mila nel momento in cui è la fine della scadenza, ok? Stavo dicendo buono fortiferi postali, ma dove devo dire BTP, ok? Qual è quindi la differenza principale tra il BTP valore e buoni fortiferi postali? Allora innanzitutto il BTP valore può cambiare il suo valore nel tempo, ok? Quindi se lo sottoscrivete durante l'emissione sono le date che comunica il MEF, quindi per dire dal 6 al 10 di quel mese, allora in quel momento lì non pagate i costi della banca, ok? Specifici per questo investimento, però se invece lo acquistate in un momento successivo potrebbe valere più o meno, quindi potreste per dire, ora vi faccio un esempio pratico, acquistarlo per 9 mila e 500 Euro e poi per 10 mila, ecco faccio un esempio per 10 mila Euro, se lo acquistate in un momento successivo alla prima sottoscrizione, quindi al momento in cui vi dice il MEF che per la prima volta potete acquistare quella tipologia del BTP valore, quindi 10 mila Euro per esempio e poi alla fine vedervi 9 mila e 500 Euro, perché è il valore a seconda del valore di mercato, mentre per quanto riguarda i buoni fortiferi postali non hanno un valore di mercato, quello è qualsiasi momento lo comprate, andate a guardare i fogli informativi e vedete qual è il loro rendimento in quel momento usato e quello rimane, però per i buoni fortiferi postali, se li prendete prima per la scadenza, della scadenza non avete mai rendimento, anzi nel 99,9% dei casi non avrete alcun rendimento e avrete pure pagato il bollo eccetera, ok? E quindi quelli sono, li potete prendere sempre, riprendete i vostri soldi tranne il pagamento del bollo annuale, quindi però non sottosta al valore di mercato, mentre per quanto riguarda il BTP voi ogni 3 mesi ricevete le cedole, quindi se per esempio riprendete i vostri soldi un anno dopo, comunque avete ricevuto queste cedole, ok? Potreste rivenderlo per un valore inferiore, perché non sappiamo nel momento in cui lo rivendete qual è il valore, ok? Perché magari l'avete acquistato per 10 mila Euro, ma quando lo rivendete, che ne so, nel 2027, due anni dopo, due tre anni dopo, in quel momento vale 9500, ok? Quindi vi ridanno non 10 mila Euro come avete investito, ma 9500, però nel frattempo avete preso le cedole, invece nei buoni, nel 99,9% dei casi non avete un rendimento periodico e quindi se prelevate prima di un determinato periodo i vostri soldi non avete alcun rendimento. Queste sono le differenze principali, trovate lì nel link in descrizione al video, il file questo in Excel per fare le vostre simulazioni sul BTP valore. Questo video mi ha richiesto tanto lavoro, ti sarei grata se mi lasci un ciao, un grazie, un segno di vita in un commento, a te non costa niente, ma a me aiuta a far crescere il canale. Scrivimi in un commento buono fruttifero postale o BTP, se vuoi altri video sui buoni fruttiferi postali o il BTP. Iscriviti al canale, attiva la campanella con tutte le notizioni, notifiche per non perderti i prossimi video in ambito investimenti e gestione dei soldi. Io ti mando un bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao!